Buonasera a tutti, mi presento, sono Giovanni Calduo, penso che il grosso della platea mi conosce perché sono nato e vivo a Santaniello e qui mi sento in Santaniello e sedotto. Ho accolto l'invito a capitani di Pier Giorgio perché stimo lui, stimo la sua famiglia e soprattutto perché condivido il programma della nostra vista. Anch'io non è così, perché anche io sono un po' che mi ha emozionato. Sono sceso in campo per dare il mio contributo, impegno e professionalità perché mi piacerebbe la tua Santa.